Le voglio chiedere una cosa, dal suo punto di vista, perché i resoconti, le dietrologie, il retroscena sono tanti, per esempio si dice che Salvini si è irritato perché Conte si è un po' sbilanciato, ha detto ci toccherà un commissario importante, addirittura quello alla concorrenza, forse con una vicepresidenza della Commissione europea, e insomma sembra che i giochi invece sono tutt'altro che fatti. Intanto parto da qui, è così? Rischiamo di non avere questa casella così importante? No, assolutamente, l'Italia giocherà la sua partita come l'ha sempre giocata, è un paese importante all'interno del contesto dell'Unione Europea, non è assolutamente vero che siamo isolati, come si dice, infatti il lavoro che è stato fatto anche con alcuni paesi, che sono quelli di Visegrada, ha bloccato un pacchetto già preconfezionato che Francia e Germania avevano preparato sulle nomine della presidenza della Commissione e della BCE, la partita si è giocata e quindi indubbiamente, al di là di quelli che poi possono essere i nomi, quello che conta è che vengono un po' cambiate le regole europee. La sensazione che c'è oggi è che alla luce anche della difficoltà che sta vivendo un po' a livello economico tutta l'Eurozona, ci sia davvero la possibilità che ci siano spazi di maggiore flessibilità per tutti i paesi, compreso l'Italia, che sicuramente ne beneficerà per affrontare la prossima manovra di bilancio, nel rispetto del patto di stabilità, perché anche sulla procedura di infrazione, alla fine abbiamo verificato che è stato tutto un blef, era tutta politica, i conti erano a posto, non c'erano i numeri che aveva in mano la Commissione, non erano i numeri che aveva il Governo, anche perché a fronte di minori spese su quota 100 reddito di cittadinanza, maggiori entrate dovute ad un recupero dell'evasione fiscale, più delle risorse comunque che erano state messe e preventivamente nello scorso bilancio, proprio a garanzia, hanno messo in evidenza che il deficit rientra nei parametri stabiliti nella trattativa dello scorso dicembre e quindi l'Italia, anzi, che goda non di cattiva salute, come dicono un po' tanti, lo certificano i mercati, che è già da parecchio tempo, ancora prima quando è stato messo in evidenza il rischio della procedura di infrazione, che non ci hanno creduto molto, perché poi i dati reali e concreti testimoniano un Paese che comunque la disoccupazione scende ai minimi dal 2012, il tasso di occupazione è uno dei più alti dal 1977, quindi vuol dire che non tutto va male, poi certo, bisogna essere obiettivi, il Paese ha bisogno di crescere di più, infatti quando Salvini dice che bisogna tagliare le tasse per dare lo srancio all'economia, lo dice a ragion veduta. Allora guardi, Conte a parte, adesso ci ragioniamo ancora, le voglio chiedere, vediamo se ho capito bene, e questo lo dice anche Conte in una lunga intervista al Giacomo della Sera, insomma tutto sommato alla luce delle nuove nomine europee poteva andarci molto peggio, perché gli accordi iniziali potevano vedere a capo della commissione della BCE delle personalità molto più chiute, molto più attente all'austerity, piuttosto che i nomi che sono stati scelti, e questa è la sintesi, la testimonianza che al di là del voto europeo, del Parlamento europeo, di quello che è stato detto dopo le elezioni europee, sappiamo benissimo che poi la partita vera la giocano i Paesi, i governi dei Paesi europei, e lì con il fatto comunque che possono mettere il veto, indubbiamente ha influito su una trattativa che ha reso sicuramente di più rispetto a quello che poteva essere.